Non sarà, non potrà essere una Pasqua come tutte le altre. La maggior parte dei cittadini europei è nata e cresciuta in un tempo di pace. Le guerre sì ci sono sempre state, ma lontane. E quella nell'allora Iugoslavia era una guerra interna ad una sola nazione che si stava frammentando. Di fronte al conflitto, Russia-Ucraina, anche gli auguri di un vescovo diventano diversi. Il purtroppo è il dato di fatto, certo c'è un purtroppo. Eppure la Pasqua permette uno sguardo e una comprensione di quello che viviamo e della storia che è un po' travalica, sconfina queste situazioni qui. Ora ci dobbiamo confrontare con un conflitto fra due nazioni, e una delle due è una delle superpotenze mondiali, quella che da dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sempre rappresentato la più grande preoccupazione per il mondo occidentale. Ecco, la Pasqua è vero, Gesù ci dice che è la sua vita e quindi noi la vita la pensiamo non un sogno, la pensiamo come possibile anche per noi. Io auguro che Lui possa essere davvero efficace, la sua presenza e il suo incontro nella nostra vita, pur in tutta questa situazione, con quel purtroppo iniziale. Grazie. Grazie.